Chini sui campi a raccogliere ortaggi e frutta sotto il sole coccente c'erano anche quattro minorenni. Evidentemente senza contratto di lavoro, migranti non accompagnati, privi di permesso di soggiorno. Se fossero rimasti vittima di un incidente, nessuno lo avrebbe mai saputo. Fantasmi agli occhi dei consumatori siciliani che fanno la spesa. A individuarli in una operazione anticaporalato nelle campagne del Palermitano, i carabinieri insieme agli ispettori del lavoro. Nelle scorse settimane, la tragica morte di Satman Singh a Latina e le bastonate sugli operai tra i filari delle pregiate uve delle Langhe, oggi la stretta nelle serre siciliane. Un'ottantina i controlli in tutte le province, due terzi delle aziende ispezionate, sono risultate irregolari. Non imprese agricole a conduzione familiare, ma attività economiche ben avviate che conferiscono alla grande distribuzione. Per dare una misura del fenomeno, nel Palermitano su 16 persone trovate a raccogliere pomodori, 14 erano in nero nel Trapanese, il 10% era senza contratto. Le violazioni più frequenti, il mancato rispetto dei regolamenti sanitari e di protezione, oltre all'evasione fiscale, nessun arresto decine. Le denunce fra gli imprenditori che hanno ricevuto sanzioni amministrative fino a 100.000 euro.